Questo è il il disegno dal quale sono partito per progettare l'ambiente. È il simbolo della casa cosmica, reso nelle tre dimensioni. Ho preso gli elementi del simbolo e li ho organizzati sulle pareti della stanza, cercando di richiamare un'architettura diversa da quella fisica. Il risultato sarà un'installazione per così dire silenziosa, pensata per un luogo dove si impara a meditare, quindi non deve imporsi ai sensi, non deve distrarre, ma al contrario invitare a chiudere gli occhi e concentrarsi sullo spazio interiore. Mettendo in sequenza la costruzione geometrica del simbolo, traccio sul muro questi grandi cerchi, quasi invisibili. Userò un grigio ad olio molto simile al colore delle pareti per fare un disegno da vedere solo in condizioni particolari. È come quando si medita, se lì in ascolto e ad un certo punto, tac, e vedi qualcosa. La parete con le porte finestre è scandita da elementi verticali in legno dipinto, elementi che rappresentano l'asse del mondo, che diviso in quattro va a costituire le colonne portanti della casa. Sull'architrave, idealmente sostenuto dalle colonne di legno, ho inserito sette piccoli dipinti su fondo argentato. Sono come metope, immagini che rappresentano il principio del centro. L'occhio, alla sua sinistra l'uovo e a destra il seme, la montagna e il cuore, e alle due estremità, il sole e la luna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.